Quest'anno ho deciso di fare un'iniziativa molto particolare, omaggerò l'essenza di mora, di un bel mazzo di fiori e di un buono per fare la spesa perché riteniamo sia fondamentale dare dignità a quelle che sono le donne che vengono considerate le ultime e dobbiamo lanciare un messaggio proprio a loro e dire non siete invisibili, non siete invisibili l'8 marzo ma non lo siete mai state per la regione Piemonte attraverso politiche attive che sono proprio volte a fare in modo che le donne a prescindere dal loro stato originario di provenienza e a prescindere anche dalla loro condizione possono sempre essere aiutate e supportate dalla regione.